Sono entrati nella sala slot in due, uno con il volto travisato, in mano un fucile tipo soft air che ha puntato alla gola di una dipendente. Attimi di terrore ieri sera poco prima delle 22 nella sala slot di Piazza Parigi a Montebelluna, dove due banditi hanno fatto eruzione minacciando i presenti e facendosi consegnare l'incasso della giornata. Un'azione fulminea, arraffati i soldi, due sono scappati, ma la fuga è stata breve. Nel giro di qualche ora i carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti ad identificare i malviventi. Si tratta di due giovani del posto, uno quello che imbracciava il fucile ed aveva il volto coperto, maggiorenne, l'altro minorenne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Nelle abitazioni dei due i militari dell'arma hanno rinvenuto i vestiti utilizzati dai banditi per il colpo, un caricatore per fucile ad aria compressa compatibile con l'arma imbracciata durante la rapina, recuperati anche 1.500 euro in banconote dello stesso taglio di quelle asportate, fondamentali per arrivare all'identificazione dei due le immagini della videosorveglianza, le testimonianze dei presenti ed un tatuaggio sul dorso della mano di uno dei due rapinatori che si è rivelato decisivo per l'identificazione e l'arresto.